Un progetto rivolto a laureati e professionisti del settore culturale interessati a migliorare la loro preparazione in termini di management delle organizzazioni culturali, del patrimonio culturale e delle imprese del settore culturale e creativo. Si chiama MUSEK ed è un master che il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Ferrara presenta nella sua dodicesima edizione unitamente all'Associazione Nazionale dei Musei di Enti Locali e Istituzionali in collaborazione con ENCATC, la Rete Europea per la Gestione e la Politica Culturale. Il master è alla sua dodicesima edizione e quest'anno ha anche una special edition legata al settore culturale creativo in senso più ampio per diciamo al creare una sinergia tra quello che è il settore culturale classico nel nostro paese con tutta la parte legata all'ambito più imprenditoriale invece della cosiddetta impresa industria creativa. Questa sinergia nasce in realtà dalle esigenze che richiede il territorio perché è sempre più forte la necessità di far comunicare fra di loro quelle che sono le realtà cosiddette legate al settore pubblico quindi possono essere le biblioteche, i musei o quant'altro, mostre eccetera, con invece tutto l'ambito legato al culturale creativo quindi fino arrivare al turismo come finalità ultima. Quindi l'obiettivo è quello di creare delle figure, delle professioni che possano interfacciarsi con queste diverse realtà del settore. Qual è il target di riferimento a cui vi rivolgete? Allora noi abbiamo tre diversi target. Il primo target è chi è laureato con una laurea triennale, in questo caso può accedere a un master di primo livello. Con il secondo livello si accede con una laurea magistrale o a ciclo unico o appunto magistrale quindi con il cosiddetto più due oppure c'è anche la possibilità di acquistare dei pacchetti di lezioni, di corsi e solitamente questi vengono fatti da professionisti che già operano sul settore che magari hanno bisogno di creare o di specializzarsi in alcuni profili. La scadenza della domanda di ammissione è lunedì 12 febbraio 2018.